Ecco, svegliatevi il mio cuore, svegliatevi arte eccetera, voglio svegliare l'aurora e che è un chiamare le creature a lodare il Signore, a benedire il Signore. Cioè entrare in sintonia con tutte le creature perché insieme con loro noi possiamo lodare il Signore e abbandonare le nostre situazioni, abbandonare le nostre case e venire tutti insieme a lodare e a benedire il Signore. Voi siete venuti, fratelli e sorelle, dalle vostre case, avete lasciato le vostre occupazioni e siete qui per lodare il Signore e benedirlo. Tutto questo è bello. E perché siete venuti qui? Per riceverlo o per dare? Tanti pensano di poter ricevere qui. Ricevere aiuto, ricevere gioia, ricevere un bene o materiale o spirituale. Ma non è questo un atteggiamento migliore che una preghiera di rote? L'atteggiamento unico è quello di dare. Si viene qui per ricevere, non per ricevere. Ed è dando che si riceve. E donando tutto che si ritorna a casa pieni. Ci sono quelli che dicono, ma qui io non ricevo più niente. che vengono a fare, qui si viene per dare e non per ricevere. Questo è il momento di dare al Signore. Che cosa? Dare al Signore la lode del nostro cuore. Dare il nostro affetto al Signore. Dare la nostra attenzione anche al fratello, alla sorella che ci sta accanto. Dare, 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 dare. E si realizza così la parola della scrittura. E' meglio dare che ricevere. Meglio dare che ricevere. Questa sera diamo lode al Signore. Vi attende questa lode. Perché ci ha creati per lodarlo. E che noi perdiamo tempo per tante altre cose. Perdiamo tempo nelle cose nostre. Siamo presi dalle cose nostre. Mentre questo è il momento di dimenticare noi. Dimentica la casa di tuo padre e di tua madre. A re piace la tua bellezza. E detto nel Salmo. Venite, uscite. Incontro a Cristo Signore. E scordarci di noi per un'ora, due ore. Scordarci delle nostre case. Dei nostri problemi. Tutto ciò che ci appesantisce. E venire qui, davanti al Signore. Preoccupato unicamente di questo, di lodarlo. Di benedirlo. Di unisci agli altri nella lode. Tutte le altre cose non contano. A noi sembra che sia qualche cosa di superfluo, comunque che noi diamo a Dio. Quasi un'opzional che diamo al Signore. Non è così. Dare l'odi a Dio. E dare ciò che a Dio appartiene. Ed è raggiungere lo scopo della nostra vita. E essere quelli che dobbiamo essere. E mancare alla lode. E mancare a Dio e noi stessi. E frodare noi stessi. Perché Dio ti ha creato. Per conoscere Lui. Per amarlo. Per servirlo. Per lodarlo. Egli ci ha creati in Cristo Gesù. Prima della Costituzione del mondo. Per essere santi e immoccolati davanti a Lui. Ed essere lode della sua gloria. E allora che noi raggiungiamo il nostro vero fine. E mettiamo la nostra vera posizione. Ci mettiamo nella posizione giusta. Pros tanteon. Dice il testo greco. Nel prologo. E il verbo era presso Dio. Cioè il verbo era rivolto a Dio. E nel verbo. Noi siamo rivolti a Dio. Per essere lode della sua gloria. Per questo siamo nel mondo. E per questo il verbo di Dio incarnato. Si apprezzi in sé. Per metterci nella sua stessa posizione. Verso Dio. Pros tanteon. Questa è la vera posizione dell'uomo. Tutte le altre posizioni sono sbagliate. Sono oblique. E non ci fanno raggiungere il nostro vero fine. Perché per questo noi siamo stati creati. Per lodare. Per essere lodi a Dio. Con tutte le creature. Le creature lodano continuamente Dio. Gli altri che vorticano. Gridano la gloria di Dio. Gli uccelli che cantano. Gridano la gloria di Dio. Le piante che si erguono in alto. Gridano la gloria di Dio. Tendono in alto al cielo. Noi uomini. Facciamo le beca tra di noi. Ci dirottiamo in altra situazione. O ci chiudiamo dentro di noi. O ci mettiamo contro gli altri. Contro questo. Contro quello. Cambiamo posizione. Abbiamo sbagliato tiro. L'unico tiro vero. Quello giusto. Quello che mira all'obiettivo. E in alto alla lodi a Dio. Per cui questo momento. È il momento del tiro giusto. Nella posizione giusta. Quelli che dobbiamo prendere. E quelli in cui dobbiamo perseverare. Sarà la posizione eterna. Essere lode e gloria di Dio. Per cui quando veniamo qui. Astraiamoci delle cose nostre. Noi non esistiamo. Noi siamo voce del verbo. Noi siamo voce del verbo. Voce del verbo. Il verbo è qui. E noi siamo tante voci. Le voci del verbo. Che significano quello che significa il verbo. E tutti cantiamo nel verbo. A colui. Che Dio. Il Dio. Unico. Vero. Solo. Come il verbo. E sempre. Pros. Come il verbo si incarna. E prende tutte le creature in sé. Umane. E prende in certo qual modo tutti il cosmo in sé. E lo rivolta verso Dio. Così noi nel verbo. Incarnato. Dobbiamo prendere la nostra vera posizione. e cantare in Lui. Noi siamo voci di Lui. E Lui che risuona dalla nostra bocca. Deve risuonare dalla nostra bocca. E cantare al Padre l'amore. Ed è così che l'amore che risceglie in questo mondo ritorna al Padre. Alla sua gente da cui è venuto. Per questo siamo qui. E allora dimentichiamoci, fratelli e sorelle. Delle nostre cose. Dimentica tua madre di famiglia. I tuoi figli. I tuoi problemi. Tuo marito. Tuo ragazza. Dimentica in questo momento. Il tuo giovane. La tua fidanzata. Il tuo fidanzato. Tuo acciaccato. Tuo vecchio. Dimentica un po' i tuoi acciacchi. I tuoi problemi di salute. Tu che sei presa nei problemi. I tuoi problemi della vita. Economici. Morali. Dimentica per un momento tutto. E prendi la tua vera posizione. Quella vera. Quella che tu dovresti sempre prendere. E quella che sarà eterna. Lodare a Dio. Benedire a Dio. Dare a Dio glode, gloria, onore e benedizione. Data a Cesare quel che è di Cesare. Ma data a Dio quel che è di Dio. Tutto il bene che noi abbiamo. Tutto il bene che noi siamo. Deve ritornare a Dio. Tutto deve ritornare alla sorgente. A principio. Da cui tutto è venuto. E siamo qui per questo. Fratelli e sorelle. E allora un cuor solo, un'anima sola. Lodiamo il Signore. Tutto il resto non conta. Tutto il resto non conta. Dio stesso ci darà modo di notarlo e di benedirlo. Se noi non pensiamo più a noi, alle cose nostre. Non pensiamo agli altri, ai torti ricevuti. Non pensiamo a niente. Pensiamo a Lui. Dio stesso ci verrà incontro. Come ci verrà incontro? Mettendici la parola dentro. E qual è la parola? La parola è il verbo di Dio. È il verbo di Dio che si comunica a noi. E a noi che siamo le voci. A noi che siamo come il suono dei tasti. Di un pianoforte. Pianoforte è uno. Ed è il verbo di Dio. I tasti siamo noi. Ed è lo Spirito che suona. Ognuno con la sua voce. Gli viene data gloria a Dio. Dimentichiamo tutto e tutto. E intoniamo questo canto. Di gioia. Questa l'odio al Signore. Mentre noi cantiamo. Dio gradirà. Il nostro canto. Ci purificherà. Ci risanerà. Ma queste opere di Dio. L'opera nostra è lodabile. Benedirlo. Fatto un col sole. Un'anima sola. E docele. Alla mano del Spirito. Che toccherà i nostri tasti. Amen. Un minutino. Ecco. Continuiamo a lodare il Signore. In una maniera particolare. In mezzo a noi c'è un bambino che ha ricevuto una grazia. Ecco. Ora noi lo faremo avvicinare. Intanto vi spiego di se si tratta. Di solito le testimonianze le riserviamo a lunedì sera e al giovedì mattina. Ecco. La mamma e il bambino sono qua. Quindi è giusto gioire assieme a loro di quello che il Signore ha fatto. Non pensiamo aspettare oltre. Questo bambino e questa mamma felicissime, anche noi felici assieme a lei. Ecco. Ringraziamo il Signore. Lunedì, l'altro ieri, giorno 4.11.96, dice la mamma, scrive lei, Ero presente alla preghiera di guarigione fatta dalla comunità e presieduta da Padre Matteo. Avevo portato con me mio figlio Mattia, per il quale chiedevo da tempo la guarigione degli occhi. Aveva infatti una rara patologia che ha il nome di nistagmo. Poi spiegheremo le cose. Per questo disturbo non esiste ancora nessuna cura. Durante la preghiera, Padre Matteo ha annunziato la guarigione agli occhi di una persona di sesso maschile, presente in sala, e di un claucone. Lodai insieme all'Assemblea del Signore. Terminata la preghiera, sollecitai mio figlio ad avvicinarsi a Padre Matteo e chiedere la benedizione agli occhi. Il bambino non riuscì ad avvicinarlo dietro l'altare. Allora lo seguimmo finché vicini a Padre Matteo, ecco, Padre Matteo appoggiò la mano sulla testa di Matteo. Con la gioia nel cuore torniamo a casa. Era già tardi e ci sedemmo a tavola senza avere il tempo di raccontare della preghiera. Stavamo per terminare di mangiare quando mia mamma esclamò. Rita, hai visto gli occhi del bambino? Non si muovono più. In effetti il nistaggimo è un movimento continuo dell'occhio e, come è documentato in questo esame che ha fatto in un centro specializzato di Milano, che ora vi leggerò, c'era questo nistaggimo che sicuramente era congelito. Fui percorsa da un privido e disse a mia mamma, sai, Padre la gruva gli ha appoggiato una mano sulla testa e lo ha benedetto. E durante la preghiera avevo annunziato vari giorni e giorni. Capì che Gesù aveva operato ed esaudito la mia preghiera. Posso documentarla con elettro e in cefalogramma, che è qua, quando Mattia aveva ancora poco più di un anno. Ringrazio Gesù, ringrazio anche il suo intermediario, Padre Matteo e tutta la comunità che prega. Lo diamo assieme, Gesù, Maria Rita Gargami. A volte noi siamo un po' pignoli nel pretendere documentazioni, ma lo facciamo appunto per essere, come dire, ecco, anche con la coscienza a posto. Vedete, questo è un bellissimo esame che è stato fatto in un servizio di neuropsicopatologia a Milano. E dice così. Tracciati con artefatti muscolari e di movimenti oculari. Mi staggiamo pressoché continuano. Quindi Stoschio non si fermava mai. Ritmo di fonte, eccetera, eccetera. Però, ecco, quello che conta è che noi siamo documentati. Non per noi, perché noi crediamo a quello che il Signore fa in mezzo a noi, ma per poter dire a quelli che non credono, il Signore ancora opera e opererà sempre. Lode e gloria a Teo, Signore. Grazie a Gesù. Non pensiamo a noi, pensiamo a Lui. Se noi pensiamo a Lui, Lui penserà a noi. Ma se noi pensiamo a noi, Lui non ci pensa. Va bene? No. Se noi pensiamo a noi, alle nostre cose, resteremo a noi. Ci vuoi pensare tu? Pensaci tu per te. Allora pensiamo a Lui, Lodiamolo. E Lui penserà a noi. Quando vuole, come vuole. E allora riprendiamo la lode. Il ritmo di lode, Lodiamo e benediciamo a Dio. Canto 259 Sono belle le tue tende, O Giacobbe. Le tue dimore, O Israele. Sono come torrenti che si deramano, come giardini lungo un piume, come aloe che il Signore ha piantati, come cedri lungo le acque. Chi ti benedice sia benedetto, e chi ti maledice sia maledetto. Signore, tu ci dici che sono benedette le tende di Giacobbe. Sono le tue tende, O Signore, le tende di Israele. Tu hai piantate queste tende, sono le tue tende. Guai chi tocca queste tende. Sono le tende del Signore. Sarà benedetto chi benedice queste tende. Incorrerà nel dire di Dio chi maledice o parla male di queste tende. Perché sono le tende del Signore. Il Signore è qui in mezzo a noi. Queste tende sono le di Dio. Le ha piantate Dio, non le abbiamo piantate noi. Sarà il Signore a governarle. Anche quando l'uragano si abbatte. Anche quando il vento veloce di belle i pali di sostegno. Sarà il Signore a riparare le tende. Perché sono sempre belle le tende di Giacobbe. Le tende di Israele. Sono sempre benedette da Dio. Fratelli e sorelle, noi che abitiamo sotto queste tende benediciamo il Signore. L'odiamo e benediciamo Dio. Se Dio permette che le tende siano investite dal vento dell'uragano. Attendiamo anche da Dio che ci sia il rialzamento delle tende. Ma guai a chi dice male di queste tende. Perché sono le tende del Signore. Beato chi benedice queste tende e fa le bene di queste tende. Perché il Signore non benedirà. Alleluia. Alleluia.